Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa seconda e ultima parte per quanto riguarda il video sulle mie carte da gioco ufficiale di Dragon Ball riguardante la prima serie Z, GT, Super e Eros. Detto questo quindi vi lascio subito il link qui sopra della prima parte dove vi ho mostrato appunto le carte che posseggo in italiano, in francese, in inglese, in giapponese per quanto riguarda diciamo i buoni, per chi l'ho classificato è un po' così, i due album. Quindi vedrete le carte bellissime di Goku, Vegeta, Gohan, tutta la famiglia appunto dei due Saiyan, Junior, Krillin, Maestro Muten, l'esercito di Freezer, Freezer, Majin Buu, Cell eccetera eccetera. Mentre invece in questa seconda quindi lasciate, vedete il video lasciate un bel like, fatemi sapere che ne pensate e poi recuperatevi anche questo perché qui adesso continuiamo diciamo la raccolta di queste carte. In totale sono più di 800 ma ne arriveranno ancora altre così come stanno arrivando, altre carte per esempio di Naruto, stanno arrivando altre carte di One Piece e per tale occasione vi faccio vedere prima di tutto una sola carta di quelle che poi saranno protagoniste di un altro video. Le carte di Cavalier dello Zodiaco e poi vi voglio far vedere giusto un attimo e poi iniziamo tutte queste carte che voi vedete, tutti questi mazzi tra cui Dragon Ball, le carte da gioco ufficiale, le Lamy Cards, le carte di One Piece italiane eccetera eccetera. Sono solo alcune delle carte che vendo quindi seguitemi anche su Instagram, link in descrizione per potermi contattare in privato. E metterci magari d'accordo se siete interessati all'acquisto di carte di seguirmi anche su TikTok perché è lì che farò vedere anche queste bellissime carte, ve ne faccio vedere solo due. E poi anche su Twitch perché dopo domani iniziamo con le live anche su Twitch. Detto questo quindi lasciate un bel like, iscrivetevi, condividete. Con lo sfondo di Dylan Dog vi lascio anche il link della recensione del primo volume di Dylan Dog per sapere di cosa parla perché è un fumetto bellissimo. Detto questo quindi vi aspetto su Instagram, Twitch, TikTok, qui lasciate un bel like, condividete e soprattutto fatemi sapere quali saranno le carte che vi piaceranno. Quindi iniziamo e così come abbiamo finito la prima parte del video, del primo video appunto per quanto riguarda queste carte con Broly, iniziamo appunto ancora con Broly. Vi faccio vedere per esempio subito una delle carte più belle, secondo me Super Saiyan Broly 3, ovviamente Super Saiyan 3 Broly, Saiyan Berserker, guardate quanto è bello. Ma ci sono veramente alcune carte, adesso ovviamente non ve le faccio vedere tutte perché altrimenti non ce ne andremo più, però veramente ci sono alcune carte fantastiche. E quindi insomma se avete visto già la prima parte diciamo di questo video saprete che io l'ho classificata un po' per diciamo per categorie. In questo caso c'è appunto Broly e poi inizieremo con tutti gli altri Saiyan ovviamente che non sono Goku, Vegeta e le loro famiglie ovviamente. Perché quelle le abbiamo già mostrate, guardate per esempio forse dalla foglieratura non si vede bene, guardate bene per esempio questa carta di questo Dark Broly Super Saiyan 4 del Guerriero Fantasma per quanto riguarda tutta la storia di Eros. Ma sicuramente se lo seguite sapete di cosa parlo. Tra l'altro settimana prossima se tutto va bene uscirà anche la recensione di questi due volumi di Super Dragon Ball Eros Universe Mission. Ok? 1 e 2 per stare anche un po' in tema con quelle che sono le puntate dell'anime. Detto questo quindi finito Broly iniziamo appunto con i personaggi dei film. Quindi abbiamo per esempio tutti i cyborg di C13, C14 e C15. Poi abbiamo per esempio questo C13 che fa appunto una sfera molto 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 potente. Come potete notare veramente sono carte ragazzi che meritano davvero tanto. Poi c'è per esempio C13 con praticamente oggi oggi va così ragazzi. Non riesco a far uscire queste carte. Questo fa capire anche un'altra cosa cioè fa capire la qualità dei raccoglitori molto molto elevata perché non si spezzano subito questi fogli di plastica. Quindi guardate qua C13 per esempio controllato da Babidi. E quindi insomma adesso dopo magari vi farò vedere anche da vicino. Ritorneremo muovendo un po' lo cellulare quindi in modo tale da vedere anche più da vicino. Per il momento vi faccio vedere così. Quindi questi sono per esempio tutti i personaggi poi del film di Borjak. Dove Gohan per la seconda volta fa veramente una grande bella figura. Poi abbiamo per esempio no dai vi faccio vedere così. Eh ragazzi questi video non ho mai ancora ben capito come mostrarveli. Cercherò di non muovere troppo il cellulare per non farvi venire diciamo il mal di mare. Però purtroppo vanno mostrati un po' così. Ecco così almeno andando un po' più piano dovreste riuscire a vedere la spettacolarità di alcune di queste carte. Ovviamente come sempre ci sono carte risvegliate ci sono carte così carte con lì. Però insomma cercherò di mostrarvele. Guardate quanto sono belle alcune. Parte che sbrilluccicano e vabbè e ci sta perché ci sta perché sbrilluccicano quindi ci sta. Poi per esempio vedete questa fusione di Janimba con Baby per esempio oppure Hildegard che veramente queste sono una delle pochissime serie che hanno anche le carte di Hildegard e Tapion. Che probabilmente per una questione anche di diritti non vengono mai affrontati più di tanto nelle Lamy Cards, nelle figurine eccetera eccetera. Quindi tanta roba. Qui poi abbiamo appunto il film di Chilled diciamo l'antenato di Freezer, Cold, Cooler eccetera eccetera. E poi abbiamo i film di Super Dragon Ball. Dragon Ball Super Broly. Ecco io quindi adesso vi faccio vedere prima la pagina per intero e poi cerco appunto di non regare troppo fastidio per farvi vedere anche le carte più così. Ecco qua un mini Broly che tra l'altro non so se avete notato ma io ho diviso i due Broly. Il Broly di Zeta l'ho messo tra i cattivi dei film, il Broly invece per quanto riguarda Super come film. Quindi cattivo dei film ma per quanto riguarda i film di Super non di Zeta. Infatti le ho messi i film, le ho messi e quindi le carte le ho messe in ordine di film, di apparizioni. E poi ci sta per esempio anche C21 tra l'altro addirittura assorbita con Majin Buu, quindi tanta roba anche lei. Che ovviamente lei è protagonista più che di un film, di un gioco, di un videogioco quindi. Qui adesso iniziamo invece Saiyan, quindi appunto c'è il signor Radish, il signor Nappa, tutta la squadra per esempio con Seripa, Toma eccetera eccetera di Bardak. Quindi adesso vi faccio vedere anche più da vicino, purtroppo è così, non riesco a trovare altre inquadrature. Anche perché la qualità luce purtroppo qui non è delle migliori e quindi di conseguenza dobbiamo un po' attrezzarci così. E tra l'altro approfittando appunto della squadra di Bardak, quindi parlando della squadra di Bardak, vi lascio anche qui sopra il link del video appunto dell'ultimo video commento di Dragon Ball Super. Perché domani sera, dove si parla anche di Bardak, perché domani sera ovviamente uscirà la live sul Dragon Ball Super e giovedì live su Twitch invece per parlare di Dragon Ball in generale. E fare un ipotetico scontro tra Jiren, Bruli e Moro, quindi vi aspetto il link di Twitch ovviamente in descrizione. Quindi qui abbiamo poi appunto il resto della squadra, poi abbiamo Jine, la mamma di Goku e poi qua iniziamo con appunto Bardak. Tutto l'insieme di carte per quanto riguarda Bardak. Un personaggio che, ripeto, fino al capitolo praticamente 77 di Dragon Ball Super, quindi 37 anni dopo Dragon Ball, non era canonico. Non era mai stato canonicizzato, almeno come padre, questa carta è bellissima, almeno come padre di Goku. Invece il capitolo 77, appunto dopo 37 anni, ci permette di vedere il padre di Goku e di sapere anche chi è e anche la mamma. La mamma è la prima volta in assoluto che viene in qualche modo mostrata e canonicizzata, perché mostrata noi già sapevamo com'era dal film di Bruli. Però canonicizzata è un po' diverso. Vi faccio vedere questa carta, perché? Perché a parte che è bellissima, ma poi è una per esempio di quelle carte risvegliate dove poi c'è Bardak, ovviamente, Super Saiyan, quindi tanta roba. Tra l'altro questo video, come sempre, è impostato come Premiere, quindi se volete in qualche modo contribuire all'acquisto di altre carte, che poi vi mostrerò, eccetera, eccetera, potete fare delle donazioni, anche di un importo basso, se volete e se potete. E quindi contribuire, quindi, oppure attivare gli abbonamenti, contribuendo quindi all'acquisto di future carte, che poi vi mostrerò, ovviamente. Quindi, anche per questo, ve ne sono, vi sono molto grato se lo farete. Quindi adesso vi faccio vedere anche queste carte qua, eccole qua. Ovviamente poi ci sono le varie versioni di Bardak, c'è la versione di Bardak dell'origine del mito, la versione di Bardak del film di Super Dragon Ball Super Brawley, poi c'è la versione di Bardak di Super Dragon Ball Heroes, eccetera, eccetera. E qui poi abbiamo inizio, invece, hanno inizio le divinità, le divinità che possono essere dal Supremo fino, appunto, all'idea della ristruzione, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere questa carta perché è troppo, 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 troppo bella. In realtà anche questa qua non è male, guardate qui. Ovviamente nei commenti fatemi sapere quali sono le carte che vi piacciono di più, eh, ragazzi. Adesso ve ne faccio vedere qualcuna, ma fatemi sapere, ovviamente. Ecco, vi faccio vedere anche questa qua di Wiss, veramente tanta roba. E quindi, insomma, fatemi sapere un po'. Appunto, iniziamo quindi con le divinità più normali, per esempio il Supremo, Kibit, i vari Kaioshin. Kaioshin dell'Est, dell'Ovest, del Sud e del Nord. Il grande Kaioshin e poi iniziamo con il dio della distruzione, ovviamente, dell'universo 7. Poi questa carta ve la devo far vedere fissa, per forza, perché è troppo, troppo, troppo bella. In realtà sono belle entrambe. E tra l'altro abbiamo quasi finito, ragazzi, perché questo secondo album non è completo, o per meglio dire, sono un po' di meno, perché la maggior parte sono del primo video. Guardate questa carta di Super Sherlon, guardate quanto è bella, è fantastica. E adesso, se riusciamo, vi mostro anche la carta, eccola qua, questa carta a fianco, perché pure questa, secondo me, merita particolarmente. Ovvero sia questa qui. Guardate quanto è bella la carta di questi due. Davvero, davvero, davvero tanta roba. Quindi, insomma, nei commenti fatemi sapere, ovviamente, cosa ne pensate di queste carte e anche delle carte dell'altra volta. Se volete anche i video sulle carte di Capriolo Zodiaco, carte giapponesi, italiane, Naruto, Dragon Ball One Piece, ecco, per esempio, queste qua. Ormai ho tante di quelle carte che sono più di 6.000 solo qui, poi a Napoli ne ho altre. Comunque, insomma, questo quindi poi da qua iniziamo anche i vari universi, perché per quanto riguarda l'Universo 7 abbiamo fatto i protagonisti, gli amici dei protagonisti, i buoni apparsi nelle varie serie, i cattivi canonici, quindi tutti della prima serie di Z e di GT, poi abbiamo, e di Super, poi abbiamo fatto i cattivi dal punto di vista dei film, e adesso invece poi abbiamo fatto le divinità, e ora invece stiamo facendo quindi gli altri universi, perché dell'Universo 7 è tutto finito. Infatti qua poi iniziamo con i vari universi, sotto, per esempio, c'è scritto, non so se si legge bene, ma c'è scritto, ecco qua, Universo 4, quindi ci aiutano anche a capire ogni personaggio, se non ce lo ricordiamo, di che universo ovviamente fa parte, e quindi di conseguenza abbiamo appunto l'Universo 4, e poi si arriva anche all'amato Universo 6, che è l'universo che abbiamo particolarmente apprezzato, insieme ovviamente all'Universo 11, ci sono i due universi, dopo l'Universo 7 ovviamente, a cui siamo più affezionati, però ci sono anche personaggi di altri universi che secondo me meriterebbero una piccola menzione. Ecco qua, quindi abbiamo anche queste carte qui, ovviamente Califla, Kale, Kefla, eccetera, eccetera, e poi abbiamo Itto, il grandissimo Itto, tra l'altro questa carta guardate quanto è bella, veramente graffitica quasi, molto molto interessante, poi per esempio c'è il nostro amico Ciampa, e poi ovviamente è finito l'Universo 6, quindi abbiamo anche l'Universo 9, con Basil, Bergamo e ovviamente... come si chiama l'altro, non mi ricordo più, va bene, e poi ovviamente abbiamo anche gli altri universi, e poi si arriva all'Universo 11, quindi questi sono i personaggi dell'Universo 11, ma i personaggi sicuramente più belli sono questi qua, che sto per mostrarvi, Toppo e poi Jiren. Jiren, e veramente adesso vi faccio vedere qualche carta, non vi preoccupate, adesso fermiamo un attimo il gioco e praticamente vi faccio vedere qualche carta, perché in questa pagina per esempio, ecco io la immortalerei perché veramente ci sono carte fatte bene, per esempio, adesso ve ne faccio vedere qualcuna, se la plastica... ho capito che l'album è fatto bene, infatti praticamente le carte sono tenute bene, però ogni tanto dà fastidio. Guardate questa carta di Jiren, tanta roba, poi ovviamente risvegliata con questa qui, però qui Jiren è ancora tra virgolette normale, poi abbiamo quest'altra carta, veramente tanta roba pure questa, tra l'altro ragazzi tagliare le unghie non aiuta in questi casi, eccola qua, bellissima questa carta di Jiren, tanta roba, e poi adesso vi faccio vedere questa qua, poi vi faccio vedere anche quella là dei due Zeno, che secondo me pure merita molto, ovviamente anche queste altre carte meritano, eh? Guardate qua, Jiren, semplicemente Jiren, tanta roba, e poi Jiren risvegliato ovviamente, tantissima roba anche lui. Quindi veramente Jiren è un personaggio che si presta... poi guardate che muscolatura, che fierezza nella posa, davvero tanta roba. È un personaggio che si presta molto a queste cose, poi anche questa carta per esempio dei due Zeni ovviamente è tanta roba anche questa carta qua. Poi, queste sono le carte per esempio dei vari pianeti, quindi pianeta Namek, pianeta M2, pianeta Tsufuru, e poi queste qua sono carte un po' più particolari così, e poi da qua si inizia con i personaggi, e tra l'altro si finisce anche questo video e questa raccolta per ora, perché arriveranno altre carte, con i personaggi praticamente del multiverso dal punto di vista della Kaioshin del tempo, che è appunto anche lei protagonista dei fumetti che vi farò la recensione, quindi Super Dragon Ball Heroes che vi ho mostrato, ma anche protagonista dei fumetti di cui già c'è la recensione, vi lascio il link del video qua per quanto riguarda la recensione dei tre volumi di Super Dragon Ball Heroes, diciamo continente oscuro, quindi recuperatevi anche quello, e poi qua abbiamo praticamente Drabra, il cattivo, diciamo il Darbula cattivo, anche se Darbula già in teoria è cattivo, Mira, Towa, eccetera eccetera eccetera. Ragazzi il video è quasi finito, quindi recuperatevi prima di tutto, l'altro video se non avete ancora visto le altre carte, perché veramente meritano anche quelle, io adesso sto cercando di mostrarvele così, ma è difficile perché servirebbe veramente una luce migliore, e uno spazio migliore che al momento non dispongo, quindi di conseguenza questo è l'unico modo che abbiamo, e poi questa è l'ultima pagina, perché abbiamo poi i gravi, ecco mi manca Re Magica Pula, che secondo me è una carta molto interessante, però anche quelle carte di Demigra non sono male, e poi c'è questa carta, adesso ve la mostro di Fu, che pure è tanta roba. Quindi recuperatevi prima di tutto l'altro video, in modo tale che avete una visione d'insieme di tutte le carte che ho, e visto che adesso è una live premiere, ma è anche, premiere ma poi diventa anche un video, fatemi sapere nei commenti, in diretta o non, quali sono le carte che più vi sono piaciute di questa collezione, recuperatevi anche gli altri video, che vi ho lasciato ovviamente, tra i consigliati, seguitemi su Instagram, TikTok e Twitch, perché anche lì faremo altre cose, fatemi sapere se volete altre carte, altri video di carte, qua ci sono alcune delle carte, tutti i tipi di Laming Cards, carte giapponesi di Dragon Ball One Piece, Naruto, Hunter Hunter, Bleach, Crono Basket, Gintama, carte italiane di One Piece, poi abbiamo le carte di Naruto doppioni, abbiamo le carte, queste qua, queste carte doppioni, triploni, eccetera eccetera, quindi potete contattarmi anche per questo, e recuperatevi anche gli altri video, vi ricordo che domani c'è la live, per quanto riguarda il capitolo 78 di Dragon Ball Super, e poi giovedì c'è la live su Twitch di prova, dove parleremo ancora una volta di Dragon Ball, quindi oggi Dragon Ball, domani Dragon Ball, giovedì Dragon Ball, e poi invece venerdì video commento di One Piece, del nuovo capitolo, se siete interessati ovviamente anche a One Piece, e tutto qua, quindi voi fatemi sapere, io adesso vi sto mostrando carte un po' a caso, e niente, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like se le carte vi sono piaciute, e fatemi sapere quali vi sono piaciute di più, e ci aggiorniamo il prima possibile, mi dispiace solo per l'inquadratura, ma più di questo per il momento non possiamo fare, poi in futuro, quando avrò una postazione migliore, vi rimosterò tutta la mia collezione di carte, aggiornata ovviamente, poi superati i 5.000 iscritti, faremo il video dove vi mostro tutta la mia collezione in assoluto, a livello manga, anime, fumetti, eccetera, eccetera, quindi vi farò vedere figurine, action figure, fumetti, poster, eccetera, 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 va bene ragazzi, fate bravi, grazie per la visione, e io vi lascio con questa bellissima pagina, a parte anche questa, adesso ve la faccio vedere velocissimamente, anche se l'avete già vista, però sicuramente merita parecchio, guardate qua questa carta, merita parecchio, però comunque insomma, vi lascio con questa bellissima pagina, di Jiren il grigio, alla prossima, fate bravi, e soprattutto lasciate tanti like, se avete donato, grazie anche per le donazioni, e noi ci vediamo alla prossima, c'è anche la sezione abbonamenti attivo, eccetera, eccetera, ciao ciao!